salve a tutti a tutti a chi guarderà in diretta a chi guarderà invece la registrazione grazie a Alessandra e Maurizio per aver dato la disponibilità a questa conversazione il tema si presta facilmente alle polemiche nel sistema di informazione politico sempre di più in realtà è la scusa per attaccare l'antifascismo, l'ampi e in particolare abbiamo voluto organizzarla neanche a ridosso in realtà del giorno del ricordo ma per rafforzare una discussione che stiamo cercando di portare avanti sull'immaginario e su come la politica lo utilizzi e in particolare le destre stanno utilizzando la vicenda del confine orientale per portare avanti una loro identificazione della storia se non proprio una riscrittura che crea l'immagine sulla scia degli italiani brava gente del cattivo comunista slavo e in particolare liquidare tutta quella che è stata l'articolata storia dell'antifascismo neanche solo del comunismo si tratta di una vicenda che vede l'antifascismo sempre più sulla difensiva e abbiamo voluto invece organizzare questo appuntamento per poterne discutere e per non lasciare ai neofascisti e alle destre la riscrittura della storia per cui io vi ringrazio per aver accettato partirei da Alessandra che ha vissuto anche tutta la trasformazione di come è diventato il giorno del ricordo dicevamo prima di iniziare che non c'è stata in realtà una trasformazione scorretta rispetto a come era stato concepito il giorno del ricordo è un errore mio quando dicevamo prima informalmente dicevo hai diventato un giorno utilizzato dalle destre per riscrivere la storia invece è stato concepito così e difficilmente potrebbe essere in altro modo tant'è e qui ti passo la parola ringraziandoti che della complessità delle vicende in realtà non c'è traccia quando c'è il giorno del ricordo ti lascio però direttamente la parola sì grazie grazie naturalmente di questo invito il tempo che è concesso di solito in una conferenza è effettivamente molto poco per poter spiegare una questione che è molto complessa non soltanto dal punto di vista storico ma anche dal punto di vista di come si è sviluppata proprio in questi ultimi 30 anni riguardo all'aspetto mass mediatico e politico della vicenda parlo di 30 anni perché il giorno del ricordo è stato approvato nel 2004 però in realtà la questione delle foive è stata tirata fuori di nuovo dopo aver vissuto diciamo per lunghi anni sui giornali e nei media del tempo già al tempo della guerra e poi subito dopo la seconda guerra mondiale è stata appunto già da una trentina d'anni riesumata e rivisitata prima di tutto nella regione in cui io vivo il friuli Venezia Giulia e poi è passata diciamo ha passato il tagliamento che è il fiume diciamo del friuli ed è arrivata anche nelle altre regioni d'Italia per cui quando la legge è stata approvata si è cominciato a dire che nessuno ne aveva mai parlato questa è una delle tante cose inesatte che sono state dette in questi anni perché in realtà con i libri, la pubblicistica, gli articoli di giornale, film, video di vario tipo che sono stati scritti e fatti sull'argomento delle foive dell'esodo in generale sulle vicende del confine orientale si potrebbe riempire una biblioteca intera sicuramente ad un certo punto nel dopoguerra la vicenda non era più stata all'ordine del giorno si parlava di tante altre cose ma gli italiani non erano a conoscenza di tanti altri fatti non soltanto delle foive dell'esodo non erano per esempio neppure a conoscenza del fatto e non lo sono ancora del fatto che l'esercito italiano il 6 aprile del 1941 aveva per esempio aggredito la Jugoslavia insieme con l'esercito tedesco e che da questa aggressione è iniziata una storia terribile per quel paese che allora era un regno, il regno di Jugoslavia l'Italia il 6 aprile del 1941 invase appunto la Jugoslavia, la Luftwaffe bombardò Belgrado nel giro di pochi giorni l'esercito jugoslavo si arrese e l'Italia si annesse una buona parte di quello che era stato appunto il regno di Jugoslavia sottolineo non soltanto occupò ma annesse come per esempio la provincia che fu considerata a quel punto italiana di Ljubljana cioè l'attuale capitale della Slovenia divenne una città italiana governata da un alto commissario e a quel punto i popoli della Jugoslavia si opposero a questa aggressione e cominciarono la loro lotta di liberazione ecco quando si parla del giorno del ricordo l'articolo 1 della legge dice che bisognerebbe parlare delle foive dell'esodo e della più complessa vicenda del confine orientale ecco di questa più complessa vicenda di solito non si parla nel giorno del ricordo nelle occasioni ufficiali ne parliamo magari noi di resistenza storica o gli storici come Rigobetti che scrivono libri su questi argomenti oppure Rifondazione Comunista o qualche altro gruppo politico, associazione, lampi qualche istituto storico che vuole cercare di fare chiarezza su questa più complessa vicenda ma di solito è un argomento che non viene trattato eppure inizia tutto con l'aggressione anzi comincerebbe molto prima la storia bisognerebbe raccontarla naturalmente da molti decenni prima perlomeno dalla prima guerra mondiale però almeno dal 6 aprile del 1941 bisognerebbe iniziare e quest'anno fra l'altro sono gli 80 anni quindi un anniversario che le istituzioni italiane potrebbero usare per cercare di fare un po' di chiarezza ma dubito che questo verrà fatto comunque intanto magari bisognerebbe sollecitare che questo venga fatto gli italiani non conoscono questa più complessa vicenda non per semplice, come si potrebbe dire, mancanza di informazioni ma perché c'è stato un vero e proprio lavoro di censura nel corso dei decenni censura da parte proprio delle istituzioni da parte della RAI, dei mass media già nel 1993 per esempio gli italiani avrebbero avuto la possibilità di conoscere la più complessa vicenda del confine orientale e quindi l'aggressione alla Jugoslavia e le distruzioni, i massacri, le rappresaglie, i rastrellamenti e le distruzioni che sono state fatte dall'esercito italiano in quel paese nei 29 mesi di occupazione dall'aprile del 1941 all'8 settembre del 1943 per rimanere all'8 settembre quindi un'occupazione che non riguardava soltanto il regime fascista ma che riguardava anche proprio l'esercito italiano stesso anzi bisognerebbe ricordare che molti dei generali che sono stati responsabili dell'aggressione alla Jugoslavia e dei crimini di guerra li commessi poi sono diventati anche ministri della Repubblica Italiana e addirittura prima nel governo Badoglio antifascista detto in realtà semplicemente non più mussoliniano diciamo Taddeo Orlando che era stato il generale che aveva represso in particolare proprio la provincia italiana di Luviana era diventato addirittura ministro della guerra e poi con il governo Bonomi era diventato capo del comandante generale dell'arma dei carabinieri quindi lo Stato italiano dovrebbe chiarire molte cose a quelli che erano un tempo i popoli jugoslavi purtroppo questo non viene fatto non viene fatto e appunto come dicevo già nel 93 il popolo italiano avrebbe avuto la possibilità attraverso la RAI di conoscere perlomeno una parte di questa storia quando era stato acquistato dalla BBC da parte della RAI il documentario Fascist Legacy l'eredità fascista che si basava sui documenti della Commissione per i Crimini di Guerra in cui si raccontava quello appunto che era successo in Jugoslavia in quei 29 mesi di occupazione in Jugoslavia e poi anche in Libia e in Etiopia che sono altre censure rispetto alla storia alle responsabilità dell'esercito italiano e dello Stato italiano quindi la RAI acquistò questo documentario che però non è mai stato trasmesso dalla RAI soltanto negli ultimi anni in qualche occasione si è potuto vederlo in qualche televisione privata o ne hanno parlato in qualche occasione ma ufficialmente non si è mai visto alla RAI e poi un'altra importantissima censura è stata quella dei risultati della Commissione di Storici Italiani Sloveni che era stata istituita proprio nel 1993 dopo la formazione della Repubblica Slovena e dell'indipendenza della Repubblica Slovena era stata costituita una commissione attraverso un accordo fra governo italiano e governo sloveno di storici italiani e sloveni che dovevano arrivare a una sorta di storia condivisa che avrebbe dovuto fare da base ai successivi rapporti fra i due paesi questa commissione venne nominata lavorò per parecchi anni nel 2000 ha prodotto una relazione che riguardava la storia fra i due popoli fra italiani e sloveni dal 1880 al 1956 quindi un arco di tempo molto ampio in cui quella più complessa vicenda veniva analizzata anche se la relazione era molto snella non era molto corposa però perlomeno attraverso questa relazione gli italiani avrebbero potuto sapere che prima delle foibe dell'esodo era successo qualcosa altro di molto terribile invece anche questa relazione nonostante che l'accordo fra i due paesi prevedesse che doveva essere acquisita ufficialmente questa acquisizione è stata fatta dal governo sloveno invece non è mai stata acquisita ufficialmente dallo Stato italiano che al posto di acquisire questa relazione ha invece istituito il giorno del ricordo giorno del ricordo che appunto non prende in considerazione un ampio margine di tempo in cui si possa spiegare cos'è successo con la prima guerra mondiale cosa è successo con il fascismo come il fascismo ha represso le minoranze slovene e croata che vennero inglobate all'interno del regno d'Italia dopo la vittoria della prima guerra mondiale veniva spiegata appunto l'aggressione alla Jugoslavia del 1941 si parlava poi anche dei difficili rapporti anche all'interno della resistenza tra italiani e sloveni comunque si parlava di tantissime cose anche delle foibe e dell'esodo ma di tutto questo gli italiani non hanno potuto sapere perché appunto questa relazione non è stata acquisita invece appunto è stata creata la giornata del ricordo e vale la pena di ricordare dato che siamo ospiti di rifondazione comunista che la giunta ed è la più complessa vicenda del confine orientale è praticamente frutto di un emendamento presentato da una deputata proprio di rifondazione comunista a suo tempo altrimenti la legge avrebbe tranquillamente parlato solo di foibe ed esodo come se la storia iniziasse sul confine orientale d'Italia soltanto nel 1945 o al massimo all'8 settembre del 43 ecco quindi ho parlato dei due episodi più eclatanti di censura in realtà poi ci sarebbero tanti altri fatti che potrebbero essere ricordati quello che è però fondamentale è dire che il giorno del ricordo in seguito a tutte queste omissioni e rimozioni e revisionismi e addirittura rovescismi come ha detto giustamente un giorno il professor Angelo Dorsi è diventato sostanzialmente una ricorrenza propagandistica appunto nel 2004 si è detto che nessuno mai in Italia aveva parlato di foibe però improvvisamente tutti sapevano tutto se nessuno ne aveva mai parlato veramente e se nessuno ne sapeva niente sarebbe stato il caso perlomeno di decidere di mettere in atto degli studi per stabilire cosa fosse successo veramente e invece improvvisamente se ne parlò come se tutti sapessero perché perché praticamente si riesumarono semplicemente tutti gli elementi della propaganda che il nazifascismo aveva già iniziato subito dopo l'8 settembre del 43 con le risumazioni dalle foibe in Istria e poi con i materiali che erano stati continuati durante la guerra fredda con lo scopo di impedire proprio la consegna dei criminali di guerra alla Jugoslavia la consegna dei criminali di guerra alla Jugoslavia era prevista dal trattato di pace e prima ancora dagli accordi di Mosca del 1943 fra alleati angloamericani e sovietici e quindi l'Italia avrebbe dovuto consegnare alla Jugoslavia quelli che erano stati comandanti ufficiali dell'esercito italiano che durante l'occupazione della Jugoslavia si erano macchiati di crimini perché fossero giudicati in Jugoslavia da subito il governo italiano già quello di unità nazionale ancora diciamo in periodo della seconda guerra mondiale il governo che si era formato nell'Italia liberata del sud mise in atto gli uffici specialmente dei ministeri che purtroppo erano condotti da personale che era stato lo stesso del periodo fascista mise in atto tutta una serie di operazioni per poter impedire che questi presunti criminali di guerra venissero consegnati da Jugoslavia e c'è ampia documentazione per cui si dice proprio questo per impedire questa consegna dobbiamo raccogliere materiale dei dossier dove si parli di crimini commessi dai partigiani contro i soldati italiani ecco praticamente era un modo per dire che bisognava trasformare le vittime in carnetici cioè coloro che come partigiani jugoslavi si difendevano da un'aggressione terribile come quella nazifascista venivano criminalizzati e trasformati in appunto criminali di guerra questo senza tener conto del fatto che gli alleati anglo-americani sovietici avevano riconosciuto l'esercito di liberazione jugoslavo come esercito alleato mentre invece l'Italia anche diciamo dopo l'8 settembre il governo che si era formato dopo la fine del fascismo veniva considerato l'Italia veniva considerata soltanto come collaboratrice degli alleati non era a livello di alleanza quindi fu un'operazione messa in atto veramente in maniera molto determinata questa di impedire la consegna dei criminali ecco i materiali raccolti a quel tempo che parlavano di episodi di guerra in cui appunto i partigiani jugoslavi si erano difesi da questa aggressione vennero opportunamente trattati raccolti in dossier e presentati perché fossero presentati anche alle trattative di pace a Parigi a quel tempo naturalmente tutti quanti si ricordavano quello che era stato il fascismo l'imperialismo fascista come la Jugoslavia era stata aggredita come appunto i partigiani jugoslavi erano riusciti a condurre la più importante forse lotta di liberazione fra i popoli europei e quindi questi dossier non riuscirono ad ottenere tutti i risultati che avrebbero voluto ottenere però sicuramente poi anche in seguito al cambiamento politico a livello internazionale dopo la fine della guerra il fatto che l'Italia passava diciamo nelle alleanze occidentali e quindi anche l'esercito italiano doveva essere diciamo liberato da qualsiasi possibile accusa e quindi nel dopoguerra cioè a un certo punto questi dossier vennero lasciati negli archivi e le cose non andarono avanti più di tanto questi dossier raccolti a quel tempo con questo spirito diciamo di censura di omissione delle responsabilità italiane sono stati riesumati semplicemente all'inizio degli anni 90 per rimettere in circolo tutta la la strategia propagandistica sulle foibe ecco raccontare questo non significa che non ci siano stati infoibamenti che non ci siano state anche da parte dell'esercito di liberazione jugoslavo delle delle azioni diciamo violente anche in qualche caso oltre quello che può essere consentito in guerra così come è successo anche per i partigiani italiani così come è successo anche con gli eserciti alleati e come succede in guerra perché è la guerra stessa che provoca eccessi di violenza il problema è che queste situazioni sono state imputate semplicemente ai partigiani jugoslavi senza tener conto di tutta la situazione che si era creata e per far questo però è stato necessario oltre ad omettere il contesto in cui tutta la vicenda per esempio delle foibe è avvenuta anche aumentare a dismisura i numeri quanti possono essere stati le uccisioni gli infoibamenti nel 43 subito dopo l'8 di settembre e poi nel 45 al momento della liberazione di Trieste sono cose che si sanno perché le ricerche sono state fatte già a quel tempo e si parla nell'ordine di centinaia né di migliaia né di decine di migliaia o centinaia di migliaia alcune migliaia sono i morti non infoibati ma che sono morti soldati della Repubblica Sociale che sono stati arrestati e portati nei campi di concentramento per prigionieri di guerra in Jugoslavia e per le difficili condizioni in cui si è vissuta in quei campi parecchi sono morti in quegli anni ma è una storia completamente diversa rispetto a come viene raccontata di schiere di persone legate con filo di ferro portate sull'orlo della foiba in foibati a centinaia migliaia cioè tutto questo non è assolutamente accaduto e questo è tanto vero che la documentazione sui recuperi sia per quanto riguarda l'ottobre del 43 che per quanto riguarda il 1945 ci sono e non parlano di situazioni di questo tipo per le foibe istriane si parla fra i 200 e 500 a seconda dei documenti che si prendono in considerazione e per quanto riguarda le foibe triestine c'è il rapporto dell'ispettore De Giorgi che è stato analizzato nei particolari da Claudia Cernigoi che parla di alcune centinaia di persone e fra l'altro non si sa neppure la gran parte come sono morti perché nel periodo in cui queste persone sono state uccise stava succedendo comunque in genere anche la guerra no? Poi c'è la questione del monumento della foibe di Basovizza noi come gruppo di resistenza storica abbiamo ormai da molti anni dimostrato che questo è un monumento che non contiene i 2.500 cadaveri o i 500 metri cubi di infoibati come si dice nel monumento della foiba di Basovizza la documentazione è amplissima è inequivocabile però si continua a non voler tenerne conto e invece poi succede che presidenti della repubblica istituzioni varie parlano di stragi di pulizia etnica parlano di immense distruzioni di addirittura donne bambini pulizie di tutti i tipi e si continua a non voler prendere in considerazione la documentazione quindi il nostro il nostro invito come gruppo di resistenza storica è soprattutto quello di cominciare a a non trattare più questa vicenda in modo politico ma a cominciare ad analizzarla dal punto di vista storico purtroppo anche la storiografia italiana si è molto arresa alle alle pressioni alle alla paura anche spesso di essere indicati come negazionisti si usa oggi invece che che fare analisi storiche si usa il termine negazionista giustificazionista complottista a seconda dei vari argomenti di cui si sta parlando io credo che questo indica una crisi culturale gravissima che stiamo vivendo nel nostro paese che si vede non soltanto nel campo storico ma anche in tanti altri campi di cui adesso non possiamo parlare però quello che credo debba essere chiaro è che questa vicenda delle foibe non la vicenda delle foibe in se stessa ma l'uso che viene fatto di questa storia non è una questione che riguarda la storia appunto la storiografia ma è una questione che riguarda l'attualità perché attraverso questa storia i fascisti sono riusciti a riciclarsi nella Repubblica italiana da carnefici come erano stati a vittime e hanno attraverso questa storia creato ricreato l'immagine del fascismo e anche dei neofascisti attuali quindi io credo che una consapevolezza da parte di tutto il mondo antifascista della gravità di quello che sta succedendo ormai da 17 anni nel giorno del ricordo è quanto mai necessaria più si riesce a parlarne e meglio è però bisogna sempre parlarne appunto con documentazione con chiarezza sapendo di dire cose che corrispondono a fatti reali le cose da dire sarebbero ancora tante ma penso di dover lasciare la parola a Errico Betti ti ringrazio è stato un intervento molto chiaro io prima di passare la parola a Errico mi riallaccio a quello che veniva detto sul ruolo delle istituzioni perché in effetti noi abbiamo avuto in consiglio comunale a Firenze ospite tale Emanuele Merlino il titolo del libro di Errico e allora le foibe c'è stato un passaggio dal personaggio di Vicky di Casa Pound impersonato da Caterina Guzzanti a avere invece personaggi esponenti dell'estrema destra che pubblicano libri che vanno a presentarli con Casa Pound e poi partecipano in situazioni istituzionali per parlare del giorno del ricordo quindi quel titolo lì e allora le foibe fra qualche anno notiamo che il rischio sia di non ricordarsi la versione di Caterina Guzzanti e invece ritrovarsi ancora di più sulla difensiva e i toni con cui abbiamo assistito ai dibattiti con cui è stato accolto e ti passo la parola in mente anche un recentissimo attacco alla terza come casa editrice che è stata accusata di essere una casa editrice vicina all'Ampi come se questo diciamo fosse un elemento di anticostituzionalità e ti passo la parola grazie grazie Dimitri grazie Alessandra e grazie a voi di averci invitato e naturalmente un saluto al pubblico che ci segue e dunque io riprenderei dall'inizio nel senso che giustamente Alessandra ha ricordato la legge istituttiva e anche la battaglia di rifondazione comunista credo sia stato l'unico partito forse c'erano anche i comunisti italiani all'epoca a non votare questa legge ed è interessante guardando il dibattito parlamentare dell'epoca come appunto da una parte ci fossero i neofascisti che avevano già pronto il come dire una loro narrazione che era quella appunto messa in piedi già in epoca diciamo durante l'occupazione nazista dal 43-45 e poi nell'immediato troppo guerra e dall'altra parte abbiamo invece una sinistra moderata che non aveva proprio palesemente non aveva gli strumenti culturali per reagire e che ha accolto passivamente questa storia e gli unici che intervengono diciamo nel merito e paventando una possibile diciamo visione nazionalista che questa legge avrebbe portato sono proprio i rappresentanti dei partiti comunisti quindi come dire fin dall'inizio era chiaro che c'era questo rischio che la legge diventasse appunto uno strumento in mano alla destra soprattutto uno strumento di tipo appunto nazionalista e l'insiedimento della definizione della complessa vicenda del confine orientale cioè noi quel giorno celebriamo le foibe l'esodo e la complessa vicenda del confine orientale è stato salvifica in qualche modo ma è molto difficile utilizzare questo strumento è molto difficile parlare davvero della complessa vicenda del confine orientale che sola spiegherebbe il fenomeno ci aiuterebbe a comprenderlo e a dargli un senso perché in qualche modo non si vuole che la storia entri in questa commemorazione e appunto chi cerca di affrontare la complessa vicenda viene immediatamente tracciato in negazionismo quando invece ovviamente sono loro che negano una parte consistente della storia e che non consentono che si comprenda la vicenda delle foibe all'interno del contesto storico in cui è accaduta e questo fenomeno avviene attraverso una serie di meccanismi da una parte un racconto dominante che è onnipresente sui mass media nelle bocche dei politici in ogni contesto appunto il caso di Merlino a Firenze la dice lunga insomma voglio dire un comune comunque amministrato non dall'estrema destra italiana ma teoricamente da un partito che si ispira a ideali democratici accoglie un neofascista convinto e riconosciuto a parlare di questo tema ma è solo la punta dell'iceberg voglio dire nelle scuole vanno praticamente soltanto esponenti di destra in televisione guardiamo film che sono sostanzialmente film di propaganda neofascista o addirittura neonazista come Rosso Istria questo è lo stato appunto del racconto che viene che è onnipresente dominante nel panorama pubblico ma oltre a questo chi prova invece a parlare della storia cercare di capire di spiegare storicamente cosa è accaduto subisce intimidazioni minacce lui cioè gli storici ma anche chi li invita quindi gli enti che invitano gli storici e questo rende ormai praticamente non dico impossibile ma molto molto difficile ora quest'anno siccome gli incontri si fanno online è stato più semplice farli ma io credo che se il mio libro fosse uscito in un anno in cui non c'era il covid non sarei riuscito a fare probabilmente nessuna presentazione considerato il clima di intimidazione di minacce che ha accolto l'uscita di questo libro ma Alessandro lo sa benissimo perché lei per presentare i suoi libri o raccontare queste vicende per tanti anni ha subito intimidazioni violenze minacce di questo tipo ogni volta che andava a parlare in qualunque posto quindi sappiamo non è una cosa di quest'anno e sono tanti anni che va avanti questa cosa quindi da una parte un racconto dominante presente dappertutto dall'altra intimidazione minacce c'è chi cerca di raccontare la storia semplicemente e poi adesso siamo arrivati negli ultimi anni a una vera e propria offensiva di censura le mozioni approvate dalla regione freddovenza giulia due anni fa e dal veneto quest'anno sono leggi di alcune regioni dello Stato che prevedono l'impossibilità di parlare a chi cerca appunto di affrontare la complessa vicenda del confine mentale che viene automaticamente accusato di negazionismo e quindi i negazionisti e le foibre sono autorizzati a parlare di questi temi in alcune regioni d'Italia per ora in due ma presto saranno di più probabilmente quindi siamo arrivati addirittura alla censura vera e propria e quindi l'impossibilità di parlare di questi temi e qual è il problema? il problema è che se noi se noi potessimo raccontare la storia se noi conoscessimo la storia se la gente sapesse cosa è realmente accaduto comprenderebbe che questi fenomeni che sono avvenuti che sono fenomeni di violenza indiscutibile e come giustamente ha ricordato Alessandra è in gran parte non giustificabile diciamo così anche in un contesto di guerra però avvengono all'interno in un contesto di guerra totale che ha devastato l'Europa il primo fenomeno quello delle foibre del 43 avviene proprio nel cuore della guerra nell'apice della violenza della seconda guerra mondiale in un contesto di guerra civile europea che raggiunge livelli altissimi soprattutto in quest'area d'Europa e ha aspetti economici sociali politici nazionali che si intersegono tutti insieme sostanzialmente nell'ambito di un'esplosione di rivolta popolare di ribellione popolare in un contesto di oppressione durato più di vent'anni il secondo fenomeno che invece sono i campi di prigionia del 45 sostanzialmente è un fenomeno di resa dei conti che di nuovo riguarda tutta Europa che in questa regione d'Europa ha numeri assolutamente paragonabili ad altri territori io vengo dal Piemonte e dico sempre che la resa dei conti in Piemonte ha fatto più vittime che sul confine orientale quindi stiamo parlando di un fenomeno assolutamente normale per questo giustificabile voglio dire è chiaro che si tratta in ogni caso di uccisioni avvenute contro vittime inermi nel senso che erano disarmate in quel momento molti di loro erano ex militari effettivamente in gran parte innocenti in un senso ampio nel senso che chiaramente i principali responsabili dei crimini di guerra compiuti in precedenza non vengono puniti tra l'altro per la strategia di cui parlava Alessandra prima portata avanti dallo Stato italiano per evitare la consegna dei criminali di guerra ma anche perché riescono a scappare prima che vengano catturati quindi sono pochissimi i veri criminali che finiscono nella repressione del 45 la gran parte sono vittime diciamo appunto più o meno innocenti nel senso magari qualcuno avrà anche commesso dei crimini lui stesso ma in gran parte erano però militari o civili comunque legati al sistema dell'occupazione nazista ma il problema è possiamo anche considerare che siano tutte vittime innocenti vittime inermi ma nella guerra sono milioni le vittime inermi cioè la seconda guerra mondiale è la prima guerra della storia che fa più vittime civili che vittime militari la gran parte sono vittime inermi vittime civili che vengono uccise in rastrellamenti in rappresagli in campi di concentramento in tutta Europa ma anche da parte dei liberatori come giustamente ricordava Alessandro non solo nella resa dei conti che tutti gli eserciti liberatori portano avanti ma anche i bombardamenti per esempio i bombardamenti sono il caso più eclatante in cui muoiono dei civili peraltro nemmeno civili identificati in qualche modo come nemici perché la maggior parte dei vittime i bombardamenti sono donne bambini e vecchi quindi sono sicuramente vittime inermi e peraltro nella stessa diciamo nella stessa logica di rispetto verso le vittime sicuramente il fenomeno più importante e più significativo storicamente di tutta questa vicenda è il fenomeno dell'esodo che andrebbe analizzato approfondito molto meglio e che invece sostanzialmente ormai si ignora cioè il giorno del ricordo sostanzialmente ricorda soprattutto le foibe non l'esodo che invece è una vicenda veramente drammatica ed è davvero una tragedia che ha colpito circa 300.000 persone quindi un numero molto consistente di persone e che ha rappresentato una una grande perdita per quell'area geografica che ha perso una parte consistente dell'identità nazionale italiana residente in quell'area ma allo stesso modo però dovremmo ricordare allora tanti altri profughi italiani ci sono stati alla fine della guerra provenienti dalla dalla Tunisia dalla Grecia dall'isola del Dodecannese che era un italiano nel 1911 quindi da prima di questi territori o dall'Etiopia dalla Libia mia nonna ad esempio era una colonna che era andata in Etiopia è stata rimpatriata alla fine della seconda guerra mondiale quindi anche lei è una vittima dell'esodo in qualche modo solo che dall'Etiopia e non dalla Jugoslavia ma appunto però questi fenomeni non vengono non vengono ricordati perché invece viene ricordato solo questo fenomeno ma la logica che animava diciamo le forze politiche che hanno avuto questa legge nel 2004 era quella della riconciliazione nazionale tra gli apposti estremismi protagonisti alla guerra quindi gli ex fascisti e gli ex comunisti questo è abbastanza evidente e scelgono di identificare questa vicenda perché è una vicenda che fa comodo a entrambi perché i nemici in questa vicenda diciamo i colpevoli sono nemici nazionali ma anche nemici ideologici perché sono comunisti e quindi è perfetto va benissimo agli ex fascisti naturalmente ma va benissimo anche agli ex comunisti che si vogliono rifare diciamo la verginità accusando diciamo identificando un crimine del comunismo per di più contro il nostro popolo questo ovviamente nel racconto che viene fatto perché la realtà è molto più complessa di così e in questo senso qua non c'è io sottolineo sempre non c'è nessun tipo di equiparazione tra i totalitarismi nel novecento in questa storia perché siccome i crimini fascisti non vengono mai nominati e tutta la parte di occupazione fascista che è stata giustamente ricordata da Alessandra non c'è questa vicenda non c'è un'equiparazione tra le vittime fatte dai fascisti e le vittime fatte dai comunisti ci sono solo le vittime dei comunisti quindi quelle vittime dei comunisti sono importanti e i criminali sono solo comunisti le vittime dei fascismi non ci sono e quindi i fascisti sono innocenti quindi di fatto appunto si costruisce l'idea dei fascisti come vittime e delle vittime come fascisti anche quindi attribuendo soprattutto agnesio in questo caso un peso di responsabilità che sicuramente non hanno perché non si può dire che tutti gli esuli fossero fascisti o anche solo una gran parte o almeno non nel senso che gli daremmo noi oggi ecco in pratica qui c'è una questione che secondo me è veramente problematica perché appunto ignorando tutti i fenomeni che riguardano i crimini fascisti le responsabilità fasciste in questo territorio di fatto si perde il senso di che cosa è realmente accaduto e perché cioè di fatto da una parte abbiamo delle vittime delle vittime inermi va bene della guerra che è una guerra voluta dal fascismo insieme ai nazisti e l'invasione della Jugoslavia è stata portata avanti dall'esercito italiano che è l'Italia che ha invaso la Jugoslavia quindi le vittime di quella guerra anche le vittime delle foie di fatto sono le vittime finali di una di un'invasione da parte dell'esercito italiano e quindi da parte del regime fascista oltre appunto ai vent'anni di oppressione precedenti e le vittime dell'esodo sono a loro volta le vittime della sconfitta dell'Italia in guerra perché non solo l'Italia ha commesso il crimine ha pure perso la guerra e quindi c'è stato uno spostamento del confine è chiarissimo diciamo nel mio libro credo di averlo spiegato abbastanza chiaramente ma è evidente per chiunque sappia un minimo questa storia appunto sapendo conoscendo la vicenda senza tanto sforzo perché Alessandro giustamente diceva ok il mio libro ha un centinaio di pagine un libro che si può leggere in due ore due ore e mezza ma i risultati della commissione italo-slovena sono un volumetto di venti pagine ci sono altri documenti ancora più agili che raccontano questa storia in maniera molto chiara molto semplice quindi chiunque in realtà si può informare nel giro di un paio d'ore avere le idee chiare su che cosa è realmente successo e appunto sapendo cosa è realmente successo è chiaro che l'esodo è la conseguenza dello spostamento dei confini alla fine della guerra in una logica in parte anche nazionale nazionalista che però è il risultato del nazionalismo portato avanti dall'Italia e dal fascismo nei venti anni precedenti e della sconfitta soprattutto dell'Italia fascista in quella guerra che ha voluto e che ha portato avanti in maniera in maniera violenta in questi territori e quindi sostanzialmente le responsabilità del fascismo sono lampanti e chiarissime e sono sotto gli occhi di tutti ma questa storia si può raccontare viene raccontata solo grazie al fatto che c'è un clamoroso oblio nella nostra memoria pubblica nella nostra memoria diciamo memoria popolare dei crimini del fascismo delle responsabilità del fascismo del fascismo come regime direi addirittura non soltanto dell'occupazione italiana in Jugoslavia e poi c'è un altro aspetto che secondo me è molto rilevante su questo magari ci potremmo soffermare dopo che è quello del razzismo antislavo cioè tutta questa narrazione funziona grazie al fatto che c'è un immaginario di razzismo antislavo antibalcanico che esiste da secoli e che continua a permanere nella nostra società e che rende possibile questo racconto che se no sarebbe assolutamente inverosimile aggiungo soltanto una cosa per chiudere questo primo intervento giustamente Alessandra prima ricordava la commissione messa in piedi dallo stato italiano nell'immediato dopo guerra per sostanzialmente impedire la consegna dei presunti criminali di guerra alla Jugoslavia e altri paesi che gli richiedevano nei lavori di questa commissione si analizza anche il caso di Vincenzo Serrentino che era uno dei membri del tribunale straordinario della Dalmazia istituito nel 1941 che ha fucilato decine di partigiani con processi sommari o di attivisti in realtà non erano nemmeno ancora partigiani ecco la stessa commissione che ripeto è orientata a cercare di scagionare in tutti i modi questi criminali sostiene che Serrentino è un criminale e va effettivamente processato e nella logica dell'epoca presumibilmente fucilato tra l'altro sottolineando anche il fatto che un altro membro della stessa commissione è stato già fucilato a Roma in un altro processo che si è appena svolto per cui diciamo per lo stato italiano nel 1946 Serrentino andava fucilato sostanzialmente negli stessi giorni viene effettivamente fucilato dai partigiani yugoslavi anzi dall'esercito yugoslavo dal governo yugoslavo dallo stato yugoslavo che fa un processo magari sommario nella logica dell'epoca diciamo magari non erano processi esattamente come lo intendiamo oggi ma in ogni caso fa un processo analogo a quello che si è tenuto a Roma appunto nelle settimane precedenti Serrentino viene considerato un criminale e fucilato nel 2007 Serrentino ha ricevuto l'onorificenza come infolvato e continua ad avere questa onorificenza non è mai stata non è mai stata revocata addirittura esistono vie dedicate a Serrentino nel suo paese natale eccetera cioè questo è lo stato dell'arte allora io con una provocazione direi siccome Benito Mussolini era anche lui un criminale di guerra è stato catturato dai partigiani dopo un processo sommario è stato fucilato perché non dargli un'onorificenza mi sembra il minimo a questo punto io andrei su questa linea cioè se vogliamo essere coerenti la direzione è quella può essere uno scherzo ma forse non dovremmo scherzarci troppo perché il rischio è esattamente questo guarda che c'è qualcuno che può accogliere sai non provochiamo troppo quindi io lascio a questo punto per chiudere questo primo giro intanto poi ringrazio chi sta commentando siamo su due pagine facebook e su youtube i commenti sono tanti giustamente richiamano ai libri di Alessandra e di Eric che sono assolutamente consigliati perché non riusciamo a esaurire tutto in questa iniziativa quindi il consiglio a studiare e approfondire le vicende nel suo complesso c'è assolutamente e nel lasciare la parola a Maurizio mi permetto di rivendicare il ruolo di rifondazione nel senso che io ho trovato le vecchie dichiarazioni di alleanza nazionale contro il nostro partito ieri Fratelli d'Italia ha voluto attaccarci per questa iniziativa che abbiamo organizzato quindi rimane l'importanza del nostro impegno e cambiano diciamo i nomi dei partiti di chi ha ereditato il fascismo ma rimangono anche sempre attivi loro ti lascio la parola sì grazie a Alessandra Eric per aver accettato il nostro invito per noi si tratta di una questione politica di immensa importanza quella legata alla riscrittura della storia del nostro paese all'autentico lavaggio del cervello che è stato portato avanti in questi anni in maniera bipartisan che ha delle conseguenze negative enormi sulla cultura collettiva perché in questa vicenda del giorno del ricordo noi abbiamo davvero assistito a una delle pagine più ingloriose di quello che io considero un regime bipartisan nel nostro paese che ogni tanto tra l'altro ci regala anche dei governi in cui stanno tutti insieme periodicamente come accade in questo periodo perché dico un'operazione di regime perché non solo si è proceduto e si procede da anni a raccontare una storia diciamo dimezzata a oscurare la memoria a rimuovere la memoria dei crimini nazifascisti nella Jugoslavia più in generale se penso un ricordo personale quando andavamo a Cracujevaz la città della ex Jugoslavia che ospita la più grande industria automobilistica dei Balcani la Zastava a portare gli aiuti durante il conflitto avevamo le adozioni a distanza i lavoratori della Zastava ci portavano poi in una piana dove c'è un grande monumento della resistenza jugoslava che fu inaugurato nel 65 da Jean-Paul Sartre altri tempi altri intellettuali diciamo rispetto ad oggi e in quella piana erano stati ammazzati tutti gli studenti della scuola di quella città come ritorsione rappresaglia nei confronti delle azioni dei partigiani e l'intero territorio jugoslavo è costellato di memoria di questo tipo che è completamente rimossa nel nostro paese ma è accaduto di più non solo si è rimosso tutto ciò che era accaduto prima ma addirittura si è raccontata pure una immensa collezione di balle rispetto alla vicenda specifica e tutto questo è stato fatto con un intento politico a mio parere chiarissimo quello sostanzialmente di portare avanti una criminalizzazione di una delle componenti storiche fondamentali della democrazia di questo paese non solo della principale forza dell'antifascismo e della resistenza europea cioè quella dei comunisti ed è stato fatto con una spregiudicatezza davvero indecente con conseguenze nella cultura collettiva che ci porteremo dietro per generazioni perché nei giorni in cui veniva approvata la legge credo che Tiziana Valpiana la nostra compagna che fece l'intervento la dichiarazione di voto contrario all'Ocito l'allora presidente della regione Lazio credo fosse storace parlava di olocausto degli italiani anticipando quelle che poi sono diventate le cifre gonfiate di cui riferisce anche Eric nel libro ben prima di Salvini quando ha paragonato Auschwitz più di recente alle foibe tutto questo si è consolidato tra milioni di giovani milioni di italiani e italiani che vanno crescendo con queste convinzioni e quando arriviamo alla produzione da parte della RAI alla trasmissione di un film come Red Land Rosso Istria in cui la più importante resistenza che ci sia stata in Europa quella Jugoslava per la quale hanno combattuto decine di migliaia di italiani cosa che viene dimenticata a me capitò in una cittadina dell'Abruzzo si chiama Palatola Pelinia che ci fosse un monumento per le vittime delle foibe dell'esodo ma non c'era nessuna via intitolata a un cittadino di quella città che era morto combattendo in Croazia come partigiano nell'esercito dell'armata di liberazione Jugoslava lui era dimenticato eppure era un pezzo di storia di cui tra l'altro ho decorato con la medaglia al valore un pezzo di storia che andava ricordato perché poi per nostra iniziativa dell'AMPI e dei stessi familiari è stato insomma finalmente riconosciuto questa opera di riscrittura della storia e poi alla base anche a mio parere della ripresa dell'ultradestra e del fascismo del nostro paese può capitare normalmente di entrare in un bar e trovare immagini di bussolini esposte con assoluta nonchialanza tutto questo contribuisce a un a un imbarbarimento a cui bisogna assolutamente opporsi questo uso spregiudicato della storia non credo che sia stato frutto soltanto di impreparazione che pure c'è stata anche nella sinistra radicale all'inizio e va detto e vanno ringraziato gli storici che hanno condotto una battaglia fin dall'inizio per contrastare e fornire strumenti per smontare questa ondata che ha sommerso le scuole la televisione ma davvero vedere in tv in prima serata film in cui i fascisti e i nazisti appaiono come personaggi positivi e vengono i partigiani jugoslavi dipinti come dei mostri sanguinari a me fa capponare la pelle lo dico per memoria familiare mio padre è stato prigioniero dell'esercito di liberazione jugoslavo erano tanti italiani che fu arruolato e mandato lì mio padre non mi ha mai parlato di pulizia etnica contro gli italiani mi ha trasmesso nella memoria familiare il ricordo il racconto di essere stato fatto prigioniero e insieme agli altri prigionieri di aver sentito i partigiani jugoslavi spiegargli che loro erano delle vittime del fascismo che erano vittime come loro del nazifascismo e che bisognava unirsi per combattere il nazifascismo certo ce l'avevano coi fascisti ma come ricordava Eric anche in Italia nelle zone in cui la violenza nazifascista è stata particolarmente pesante c'era rabbia ci sono state rappresaglie eccetera anche qui l'operazione che si è consumata e che si va consumando perché grazie a questa legge è diventata una verità ufficiale di stato e chi fa ricerca storica diventa quasi un delinquente un fuorilegge che non sta insomma che sta turbando le verità della televisione sostenute persino dai presidenti della Repubblica da questo punto di vista io credo che vada detto che il ruolo svolto da Giorgio Napolitano prima e da Mattarella poi è stato di gravità ed è di gravità inaudita soprattutto perché non soffragato da studi storici questo è anche grave se si parla a nome della Repubblica comunque per noi siccome il presidente della Repubblica lo rispettiamo in quanto garante la Costituzione ma non ha l'infalibilità del Papa non possiamo che dire che le posizioni assunte sono state sono gravissime soprattutto per quanto riguarda gli attacchi alla ricerca storica e questo noi l'avevamo già vissuto in piccolo negli anni 80 con il triangolo della morte chi ha qualche anno in più si ricorderà che a un certo punto in Italia è cominciata la narrazione per cui i cattivi erano diventati all'improvviso i partigiani e parlate bene dieci anni prima un film come il novecento si concludeva con i contadini che inseguivano i fascisti e chi andava al cinema e vedeva quel film considerava anche piuttosto normale che dopo vent'anni di dittatura violenze sopraffazioni guerra eccetera la gente ce l'avesse con i fascisti no? dieci anni dopo cominciò con il triangolo della morte una campagna che non è mai finita di cui alcuni giornalisti come in panza sono stati i protagonisti poi con con la vicenda delle folbe questo è diventato si è sviluppato al quadrato al cubo e io credo che resistere sia fondamentale che si sia sbagliato a sinistra da parte di coloro che hanno pensato che era meglio fare pari e patta beh riconosciamo che lì si è sbagliato e io credo che sia un atteggiamento profondamente sbagliato chi parla è un comunista che è sempre stato antistalinista un libertario un democratico si riconosce una tradizione dei comunisti italiani per il valore democratico che hanno avuto per la scelta della Costituzione in figure come Gramsci o Terracini quindi non avrei assolutamente problemi a riconoscere dei fatti se fossero fatti credo che sia invece gravissimo che per logiche di convenienza politica su cui si è costruita la seconda repubblica tanti a sinistra e praticamente tutto il centro sinistra abbiano deciso di contribuire a questa operazione al termine della quale noi abbiamo avuto uno spostamento a destra di gran parte del popolo italiano e uno sdoganamento del fascismo che sempre più nella coscienza nazionale torna ad avere una qualche forma di cittadinanza e quindi il lavoro di Eric come quello di Alessandra e di altri storici e storiche che stanno invece da anni ricostruiscono i fatti e li portano all'attenzione io credo che abbia un valore democratico fondamentale arrivare a due regioni ma come diceva Eric probabilmente tra poco ne diventeranno 4, 5, 6 perché poi si imitano bene che votano nei consigli contro l'attività degli storici e contro l'ampi beh guardate che siamo sostanzialmente in un clima di maccartismo maccartismo che tra l'altro viene sponsorizzato in maniera forte anche dal dal clima che si è creato che non è solo quello italiano perché abbiamo visto nell'Unione Europea una risoluzione come quella che ha parificato comunismo e nazismo neanche fascismo attenzione nazismo dentro una narrazione che ha fatto sì che nel consiglio comunale di Genova i fascisti hanno proposto di votare una risoluzione per la messa a bando diciamo di comunismo e fascismo e i consiglieri del PD insomma non se la sono sentiti di votare contro visto che lo dice anche l'Europa ora tutto questo io credo che non può che preoccupare non noi comunisti che che credo possiamo andare orgogliosi di aver contrastato questa questa operazione dall'inizio ma ogni come si diceva un tempo sincero democratico dovrebbe preoccupare tutto perché a poco a poco si stanno rescindendo le radici della nostra democrazia e voglio ricordare che benaltro era il clima in Italia nei giorni in cui accadde la scomparsa del maresciallo Tito io ricordo telegiornali anzi ricordo la diretta dei funerali tutte le forze politiche che parlavano con rispetto di Tito oggi in una trasmissione la rivedevo oggi in cui era ospite Alessandra Kersevan in cui ha fatto notare a Bruno Vespa che utilizzava il servizio pubblico per diffondere bufale storiche come la famosa foto che usano sempre per sdoganare per rappresentare le foibe le violenze antitaliane in cui notoriamente invece sono raffigurati soldati italiani che ammazzano contadini sloveni credo ora rispetto a tutto questo in quella trasmissione Gasparri descrive a Tito come il massacratore degli italiani ecco tutto questo per esempio cancella anche il fatto che la Jugoslavia è stato un paese in cui i comunisti avevano vinto e liberato il paese da soli guidando un moto resistenziale e che avevano poca concorrenza visto che in quel paese c'erano forze nazionaliste che erano schierate al fianco dell'occupante nazifascista e che praticavano violenze che oggi vengono assolutamente dimenticate ma che per la memoria degli anziani in un tempo di quelli che l'avano vissuta la guerra erano note per la barbarie parliamo degli Ushat Ustascia dei Cettrici ora rispetto a tutto questo si dimentica persino che Tito fu uno che tenne testa a Stalin e fece dalla Jugoslavia un paese indipendente che guidò i nonni allineati insomma è tutta la storia del novecento che non viene affidata a un'analisi critica che ci mancherebbe non si porti avanti ma viene raccontata come un film horror con effetti io credo davvero davvero molto pericolosi e quindi insistere nel racconto storico per me è davvero un elemento di battaglia democratica su cui non dobbiamo transigere grazie grazie Maurizio io credo sia impossibile rispondere a tutti i commenti e le domande che sono davvero numerose provo a lasciarvi la parola per un ultimo giro rapido ovviamente è di interlocuzione a dialogo quindi scegliete voi io raggruppo alcuni dei commenti che ho letto partendo da chi fondamentalmente mi sembra non riesca a comprendere quello che viene detto questo io credo sia un problema sulla giornata delle foib del ricordo perché nessuno di voi negli interventi ha negato ciò che è accaduto e invece fondamentalmente in pochi commenti leggiamo il fatto che non si sta raccontando tutta la storia e invece avete insistito sulla complessità e sull'insieme delle operazioni ci aggiungo un altro elemento che mi sembra che troppo poco si dica lo dico a livello di dibattito pubblico non rispetto a noi che noi dovremmo ricordare principalmente quelli che sono stati i crimini dell'Italia perché sarebbe davvero assurdo se ricominciassimo a leggere tutte le dimensioni nazionali in maniera vittimistica e quindi ogni paese ricorda le sue vittime contro gli altri paesi questa è un'involuzione molto forte che sta che sta avvenendo gli altri diciamo commenti che si aggiungono sono su quanto fosse consapevole quella che avete chiamato la sinistra moderata rispetto a ciò che poi è diventato il giorno del ricordo e quindi ci sono delle considerazioni esplicite che e qui chiudo e poi passo la parola senza stare a intervumpervi direttamente a Alessandra Eric e Maurizio per chiudere il nostro dialogo sul fatto che comunque in quel giorno nel giorno del ricordo c'è se va bene dell'imbarazzo da parte del mondo antifascista Lampi prende spesso voce ma è costantemente sotto attacco e c'è una certa di anche intimidazione che viene subita e che Alessandra e Eric conoscono bene anche per quello che scrivono quindi io su questi elementi vi lascio la parola e vi ringrazio ancora non soltanto per oggi ma per tutto il lavoro che fate c'è da riattivare il microfono Alessandra sì c'è sempre un momento così durante l'iniziativa ecco scusate sì non ho capito tanto bene il primo tipo di obiezione che avevi riassunto che non avremmo raccontato tutto quello che insomma è difficile raccontare in un'ora diciamo così poco più tutto quello che è successo sul confine orientale in queste regioni in un secolo di storia del novecento questo non viene raccontato neppure nel giorno del ricordo come ho detto si dimentica tutta una parte della storia il problema è che credo però che questa sensazione che noi non abbiamo raccontato tutto quello che si doveva raccontare è perché non abbiamo enfatizzato la questione delle foibe o la questione dell'esodo e il problema è che noi non possiamo almeno io credo di non poter avvallare le esagerazioni estreme e la propaganda che è stata fatta in questi anni su queste vicende perché ripeto se noi andiamo ad analizzare la documentazione esistente ed è abbondante le cose che sono successe sul confine orientale per quanto riguarda le cose che vanno sotto il nome di foibe ed esodo sono completamente diverse da quelle che vengono raccontate per esempio per quanto riguarda l'esodo sono d'accordo con Eric Gobetti che i circa duecento non trecentomila che sono andati via dall'Istria e da altre parti della Venezia Giulia nel dopoguerra hanno diciamo pagato per la sconfitta dell'Italia nella seconda guerra mondiale e anche per le aggressioni che l'Italia ha fatto ma l'esodo è stato stabilito in qualche modo all'interno del trattato di pace il trattato di pace con la Jugoslavia prevedeva che chi si riteneva italiano in Istria e nel resto della Venezia Giulia se non accettava la cittadinanza jugoslava se ne andava in Italia per mantenere la cittadinanza italiana e questo è praticamente quello che è successo una parte dei cittadini che erano stati italiani dell'Istria hanno scelto di venire in Italia che sia stata una scelta dolorosa che abbiano sofferto come soffrono tutti coloro che sono profughi ed esuli è una cosa naturalmente più che comprensibile e può essere ricordata e guardate che è stata ricordata moltissimo in questo dopoguerra non è vero che non si è parlato di esodo almeno da noi nel Friuli Venezia Giulia se ne è parlato moltissimo ma anche nel resto d'Italia perché ci sono scrittori famosi che hanno scritto su questi argomenti quindi non possiamo avvallare anche tutta questa narrazione che gli italiani non avrebbero mai saputo non avrebbero mai cioè quello che gli italiani non hanno saputo sono tutte queste esagerazioni che vengono raccontate e la mancanza di informazioni profonde che bisognerebbe avere per sapere tutta questa vicenda è questo che è mancato è stata data una narrazione approssimativa esagerata a grandi linee e tanto per avallare un discorso politico che significava salvare praticamente l'immagine dell'Italia del governo italiano e dell'esercito italiano del tempo prima quindi della resistenza ancora da qualsiasi immagine di responsabilità nei confronti degli altri popoli quindi è questa narrazione che noi stiamo cercando di contrastare non l'esistenza dell'esodo in se stesso o dell'esistenza anche di un certo numero di infoibamenti che ci sono stati e che il contesto e le circostanze in cui tutto questo è avvenuto è diverso da quello che viene raccontato ed è facilmente dimostrabile perché non vogliono che se ne parli perché fanno le leggi regionali poi magari diventeranno anche nazionali per impedirci di parlare perché hanno paura di quello che può venire fuori perché se gli italiani vengono a sapere tutti che la foiba di Basovizza è un monumento che non contiene quello che dicono e vuol dire quindi allora che a Trieste non ci sono stati gli infoibamenti che dicono che ci sono stati cade il palco che hanno costruito e quindi noi non dobbiamo poter parlare non dobbiamo poter dimostrare quello quello che diciamo quindi la questione è veramente politica e in Italia stiamo vivendo oggi qualcosa che assomiglia alla imposizione di un testo unico come al tempo del fascismo per quanto riguarda queste vicende perché le case editrici si stanno tutte quante adeguando sui libri di testo su quello che deve essere scritto perché altrimenti non verranno scelti i loro libri bisogna adeguarsi a quello che dice il mainstream massmediatico e politico per cui il problema è veramente pesante e acerbo insomma è riuscito a esprimerlo molto molto bene teniamo conto che coloro che hanno costruito in questi anni questa narrazione piena di mistificazioni sono stati costretti a usare a livello anche appunto televisivo cinematografico eccetera dei veri e propri falsi acerbo prima ha ricordato la questione di porta a porta quando io ho smascherato l'uso che veniva fatto di una certa foto che rappresenta i crimini italiani nei confronti degli uslavi veniva usata e viene usata ancora in certi casi per rappresentare le foibe ma non si tratta di un episodio dove semplicemente Bruno Vespa cioè uno dei più importanti giornalisti italiani che è imperversa alla televisione ormai da tutta una vita non è soltanto il problema di Bruno Vespa il problema di tutti quelli che non si sono mai accorti prima che quella foto era un falso perché la foto era facilmente leggibile cioè è questo il problema di cui non si tiene conto che le falsità possono essere dette nel modo più sgangherato possibile eppure tutto viene creduto e viene creduto perché per un aspetto che ha ricordato anche Gobetti alla fine del suo precedente intervento e cioè che tutto questo viene avallato da un profondo razzismo antislavo che esiste nel nostro paese e guardate che questo razzismo antislavo purtroppo è molto presente anche in campo antifascista ci sono libri che io adesso non voglio nominare perché bisognerebbe parlarne molto a lungo ma che vengono anche usati e proposti da organizzazioni antifasciste anche nelle scuole che sono invece razzismo antislavo puro che se quelle cose che sono scritte in questi libri contro gli jugoslavi i popoli slavi in generale croati sloveni serbi eccetera venissero usate non so per esempio per parlare degli africani dei neri americani eccetera si capirebbe subito che si tratta di razzismo invece per per i popoli slavi si può dire tutto quello che si vuole che viene subito creduto quindi questo è anche come si potrebbe dire una cartina tornasole di tanti altri problemi di comprensione culturale che abbiamo oggi in Italia per cui secondo me che coloro che si che si rifanno ancora all'antifascismo ai valori della resistenza cerchino di approfondire queste vicende di capirle è importante perché dobbiamo tutti quanti impegnarci io dico sempre questa cosa che bisogna che noi facciamo una sorta di guerriglia culturale nei confronti dei cannoni massmediatici che usano i nostri i nostri avversari culturali in questo caso e storici dunque grazie Alessandra sono assolutamente d'accordo con tutto quello che hai detto anche Maurizio naturalmente anche Dimitri dunque io aggiungo proprio solo qualche parola cioè io credo che in questa vicenda diciamo questa vicenda si può guardare sotto tre punti di vista da un punto di vista storico diciamo storicamente questa vicenda deve essere analizzata nella sua complessità è una vicenda particolarmente complessa perché avviene in un territorio complesso da un punto di vista storico nazionale eccetera e avviene nel contesto della seconda guerra mondiale che è una guerra molto complicata da comprendere perché ci sono tantissimi aspetti e quindi c'è bisogno della complessità bisogna affrontare questa complessità se però la complessità viene tenuta fuori obbligatoriamente dal discorso abbiamo un problema serissimo diciamo non è accettabile da un punto di vista storico una vicenda raccontata vietando di affrontare la complessità sarebbe la stessa cosa per qualunque altro fenomeno storico che vogliamo celebrare cioè quando celebriamo la Shoah non è che facciamo finta che non sia avvenuta nella seconda guerra mondiale quando celebriamo il 25 aprile raccontiamo la seconda guerra mondiale cioè è necessario che ci sia il contesto se no non si capisce nulla quindi è necessario che ci sia la complessità anche in questa vicenda quindi è inaccettabile l'esclusione della storia e della complessità da questa storia questo è il primo punto il secondo punto di vista che si può adottare è un punto di vista diciamo etico-morale cioè noi stiamo raccontando la storia di persone uccise appunto al di fuori del combattimento e quindi io credo che dobbiamo comunque avere rispetto per queste vittime al di là di qualunque fosse la loro posizione in vita dopodiché lo stesso rispetto dobbiamo avercelo però per le vittime dei bombardamenti come accennavo prima per tante altre sofferenze che sono state vissute nella seconda guerra mondiale così come abbiamo giustamente empatia e vicinanza e rispetto per le vittime dell'esodo che come giustamente ha ricordato Ressandro hanno vissuto un'esperienza di profuganza che è un'esperienza di grande sofferenza per chiunque allora allo stesso modo dobbiamo però esprimere nello stesso rispetto nei confronti appunto dei profughi provenienti dal Dodecannese o dalla Tunisia dall'Etiopia dalla Libia alla fine della guerra che sono in egual numero se non addirittura superiori sommandoli tutti insieme a cui non abbiamo dedicato nessuna giornata per ricordo ma soprattutto se vogliamo ricordare con appunto con rispetto con umanità le vittime delle foibe o della resa dei conti del 45 non possiamo dimenticare le vittime dei crimini fascisti e nazisti commesse negli stessi territori negli stessi mesi cioè quando noi ricordiamo appunto 400 500 massimo vittime delle foibe nel 43 nel settembre del 43 non possiamo dimenticare le 2500 vittime dei nazisti esattamente pochissimi giorni dopo cioè all'inizio di ottobre del 43 durante il rastrellamento che pone fine a quella vicenda perché se no vuol dire che non abbiamo rispetto per le non abbiamo uguale rispetto per le vittime ci sono vittime a cui ci sentiamo vicini e che consideriamo esseri umani che degni di rispetto e vittime che non consideriamo di meno non le consideriamo proprio zero cioè quelle 2500 non valgono un quinto valgono zero neanche un quinto perché se le mettessimo sullo stesso piano valrebbero un quinto 2500 contro 500 ma invece noi non le consideriamo nemmeno e quindi non le consideriamo esseri umani sostanzialmente perché perché sono stati uccisi dai fascisti e dai nazisti invece che dai comunisti come dire siccome i comunisti erano erano cattivi perché perseguivano ideali che non condividiamo invece i fascisti e i nazisti perseguivano ideali che condividiamo pensiamo che questo fosse giusto ecco e qui arriviamo al terzo punto cioè politicamente come vediamo questa vicenda perché alla fine la storia è sempre politica in qualche modo noi guardiamo sempre politicamente la storia la storia è sempre stata utilizzata politicamente dai tempi di Tucidide quindi è sempre politica allora se noi leggiamo politicamente questa vicenda raccontandola in questo modo ignorando le vittime dei fascisti e dei nazisti ignorando la complessità della vicenda soffermiandoci soltanto ed esclusivamente sulle vittime italiane con tutti gli ingrandimenti falsità eccetera che ha già ricordato Alessandra stiamo sostanzialmente dicendo che le vittime dei fascisti e dei nazisti se lo meritavano erano vittime di una pratica giusta che condividiamo che sono gli ideali che animavano i fascisti e i nazisti e invece le vittime dei comunisti sono le uniche che sono degne di rispetto anche perché sono a questo punto le identifichiamo come fasciste e quindi e a maggior ragione ci sentiamo vicini perché siamo perché erano rappresentanti dei nostri ideali ora sto facendo un paradosso però mi sembra veramente di essere nella serie televisiva The Man of the Eye Castle cioè hanno vinto i nazisti la seconda guerra mondiale stiamo vivendo in un'epoca in cui domina l'immaginario nazista io credo che stiamo veramente andando in questa direzione a questo punto davvero il monumento a Mussolini è assolutamente coerente con questo tipo di ragionamento il film rossoistea potrebbe tranquillamente stare nella nella serie televisiva che ho citato prima The Man of the Eye Castle ora per evitare tutto questo che cosa si può fare quello che dice Alessandra cioè guerriglia culturale non ci resta altro non abbiamo altri strumenti e e dobbiamo farlo ovunque costantemente senza senza paura anche se è difficile perché la paura c'è perché ci sono le intimidazioni le minacce eccetera e dobbiamo farlo come? informandoci leggendo studiando studiando leggendo i nostri libri naturalmente ma anche siccome l'obiettivo finale è proprio quello di capavolgere i valori fondanti della nostra democrazia della nostra costituzione quindi appunto rappresentare il fascismo come l'ideale giusto e l'antifascismo come l'ideale sbagliato allora dobbiamo difendere i valori della resistenza prima di tutto anche della resistenza italiana in questi giorni è uscito un libro di una mia collega Chiara Colombini nella stessa collana di La Terza è uscito il mio libro che si intitola anche i partigiani però e secondo me questo è un altro libro che va letto sempre nella stessa nella stessa logica per difendere quei valori in cui noi dobbiamo continuare a identificarci non perché siamo di parte perché è necessario per la convivenza tra gli esseri umani identificarsi in quei valori in quegli ideali e chiudo con anche se non mi viene mai la citazione vera ma una frase famosissima di Italo Calvino che anche questo vi invito a cercare si trova facilmente su internet che ricorda come dietro il il repubblichino più buono più bravo più onesto stavano un sistema politico che è quello che ha soggiogato mezza Europa che ha creato le camere a gas e che ha creato i campi di sterminio dietro il partigiano più violento e più spietato stava l'ideale di un mondo migliore del progresso della civiltà e della e della democrazia e quindi per questo dobbiamo continuare comunque nonostante tutto a riconoscerci in quei valori grazie posso dire una brevissima cosa niente io volevo specificare questo fatto perché quando si parla di fascismo nazismo e poi si mette subito dopo il comunismo in questa vicenda nazisti e fascisti erano degli coloro che comandavano in stati organizzati che avevano eserciti leggi e che hanno deciso aggressioni e invasioni annessioni di intere parti d'Europa e del mondo coloro che vengono definiti comunisti erano i partigiani facevano parte del popolo che si opponevano a tutta questa cosa qua e che erano quelli che erano stati perseguitati prima proprio da questi stati che erano governati da fascisti e da nazisti quindi in questa vicenda non si può mettere sullo stesso piano fascisti nazisti e comunisti questo deve essere chiaro perché gli uni erano i carnefici e gli altri erano stati le vittime i comunisti sono stati nella storia in Italia e in buona parte d'Europa le vittime del fascismo e del nazismo ringrazio io prima di lasciare la parola a Maurizio e poi salutiamo do solo un'informazione a chi lo chiedeva se è possibile rivedere questa nostra iniziativa e questo nostro dialogo assolutamente sì la registrazione rimarrà disponibile sulle pagine facebook e soprattutto sul canale youtube dove ci state guardando quindi sarà a disposizione poi forniremo il link e anzi ovviamente l'invito è a seguirci in modo tale che poi si può rimanere aggiornati sulle iniziative che facciamo io poi non interverrò più e salutiamo dopo l'intervento conclusivo di Maurizio e grazie ancora per il contributo che ci avete dato oggi penso sia stata un'iniziativa importante era necessaria farla sì sono d'accordo con Dimitri e ovviamente anche con le cose che avete detto quando parliamo di Foibe il titolo del libro di Enrico Govetti è particolarmente efficace se posso fare un'analogia andiamo molto vicino all'operazione che è stata fatta con il famoso libro nero del comunismo che non è stato adeguatamente contrastato come in Italia invece fortunatamente si è fatto sulle vicende del confine orientale in cui almeno alcuni storici hanno fatto appunto resistenza come voi che siete qui con noi oggi sul piano del libro nero invece cosa è accaduto che sono state date delle cifre assolutamente gonfiate come sapete alcuni degli storici che avevano collaborato al libro si sono anche dissociati la famosa cifra ai 100 milioni di morti ora questa balla che per esempio uno come Noam Chomsky che tra l'altro non è sospettabile di simpatie per i regimi del socialismo reale via discorrendo ha smontato con articoli anche oserei dire divertenti invece è passata nel senso comune e alla fine mi sembra che al cuore di tutte queste operazioni ci sia una cosa cioè la criminalizzazione dei tentativi che nel corso del 900 sono stati fatti di andare contro l'ordine del capitalismo e dell'ordine del capitalismo fanno parte le guerre la fame lo sfruttamento tante cose il colonialismo quest'anno ricorre l'anniversario del centenario della fondazione del partito comunista italiano nessuno ha ricordato se nessuna rete televisiva che tre comunisti gli apostoli guidati da Ilio Barontini andarono a combattere al fianco dei colonizzati dei bombardati dei gasati cioè delle vittime che erano le popolazioni di quella che allora veniva chiamata Abissimia oggi Etiopia che in questo rovesciamento storico sia diventato un delinquente o un potenziale criminale Ilio Barontini che combatté in Cina al fianco dei contadini di Mao poi andò in Africa andò in Spagna e poi con le brigate Garibaldi a liberare l'Italia questo personaggio che meriterebbe un film con un regista insomma del livello di Reds di Warren Beatty per capirci per chi l'ha visto insomma che dovrebbe essere un errore nazionale una sorta di Garibaldi non lo ricorda quasi nessuno mentre la regione Lazio fa un monumento dedicato a un criminale di guerra come Graziani utilizzando denaro pubblico questa situazione paragonsale a mio parere ha un cuore cioè nel fatto che l'anticomunismo è diventato nella ricostruzione storica e anche ideologica la coperta che accompagna il convergere di tutta la politica oltre anche le visioni più pessimiste di Marcuse davvero ha una dimensione quando parliamo di pensiero unico neoliberista non è un tempo poteva sembrare un'assagerazione adesso mi pare una cosa da analizzare con freddezza perché è davanti a noi quasi banale però che ha un effetto collaterale l'effetto collaterale che nel trasformare i tentativi di trasformazione sociale radicale in incubi si getta poi un'ombra sull'anima democratica del novecento cioè sulla contraddizione che c'è tra questo senso comune che viene costruito in maniera industriale e il fatto che poi erano quelli lì quelli che come ricordava Alessandra Kerselad adesso chiudendo che hanno conquistato e costruito la democrazia insomma in Francia per dire i comunisti venivano definiti il partito dei fucilati adesso che tutto questo si rivesci nel fatto che sostanzialmente tra poco gli eroi sono anzi insomma altri due tre film e sarà così senso comune completo la prossima puntata dopo Rosso Istria e scoprire che in Africa le vittime sono stati i colonizzatori e non i colonizzati perché magari qualcuno lottando per l'indipendenza ha sparato contro i colonizzatori la perdita di memoria a mio parere non ha conseguenze soltanto per la tenuta democratica per la cultura democratica del nostro paese e io oserei dire anche di tutta Europa ma a conseguenze anche sul presente e sul futuro molto pesanti dal punto di vista del ritorno delle logiche di guerra perché noi torniamo a sentire discorsi da primo novecento e poi da che furono usati nel periodo tra le due guerre mondiali noi siamo il mondo libero contro gli altri l'occidente per esempio quando usano una parola occidente la usano sempre più nell'accezione dei fascisti che voglio ricordarlo l'occidente che sarebbe il luogo della civiltà eccetera mentre gli altri popoli sono quelli che noi possiamo bombardare facilmente perché non sono propriamente umani sono barbari noi sentiamo davvero e lo dico con preoccupazione che i fenomeni oggi abbiamo discusso quello forse più importante in Italia di riscruttura non solo della storia ma della coscienza collettiva però ci preparano a un'era io credo di nuova barbarie su scala di massa le ideologie nazionalistiche fasciste si diffondono nella società parallelamente al fatto che la guerra torna a essere all'ordine del giorno che lo sfruttamento coloniale torna a essere all'ordine del giorno quando in Italia non si era persa la memoria di che cosa era stata la seconda guerra mondiale di che cosa era stato il fascismo era difficilissimo proporre missioni militari all'estero adesso stanno partendo delle truppe per andare in Mali e neanche se ne discute la gente non sa manco dove sta il Mali e cosa andranno a fare abbiamo l'esercito professionale e lo consideriamo un fatto normale non un mutamento della nostra organizzazione militare per poter tornare a fare le guerre che con l'esercito di leva è complicato fare ebbene io cercherei di guardare l'insieme di questi fenomeni che stiamo vivendo perché c'è molto da essere preoccupati e la cosa più rivoluzionaria che possiamo fare in questo momento l'altro giorno ricordavamo una grande rivoluzionaria del novecento Rosa Luxemburg è cercare di dire la verità su quello che sta accadendo quindi io di nuovo a nome di tutte le compagnie e i compagni di rifondazione comunista ringrazio gli storici come Alessandra Kersevan Eric Gobetti che stanno facendo davvero non solo il loro mestiere di storici ma anche una lotta democratica e antifascista di cui c'è assoluto bisogno perché i veleni che vengono quotidianamente inoculati tra le italiane e gli italiani con queste operazioni preparano tempi molto bui a cui che ci obbligano eticamente io credo politicamente a una nuova resistenza ed è resistenza anche a scrivere libri farli circolare fare conferenze e andare contro il senso comune reazionario che dall'alto cercano di imporre quindi grazie di nuovo grazie a te e salutiamo anche se due su quattro dei microfoni sono staccati ma grazie 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 ciao a tutti ciao ciao alla prossima grazie 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 grazie